Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, il 18 ottobre. Allora, il titolo oggi più importante, perché dà il senso di quello che sta succedendo su questa manovra finanziaria, è manovra sotto assedio, cioè non hanno fatto in tempo. Com'è che diceva ieri Conte, il ribaltone non ci sarà, tutti d'accordo? Anzi, oggi Conte è stato fenomenale, poi dopo ve ne parlerò. Comunque, manovra sotto assedio perché la manovra fatta salvo intese, non solo è passata con decreto fiscale che nessuno, ma questo avviene tutti gli anni, riesce a capire bene che cosa ci sia dentro, ma in realtà già si stanno arrabbiando al loro interno e faranno degli emendamenti in Parlamento per cambiare la manovra. Chi? L'opposizione, se? Gli stessi partiti di maggioranza. Devo fare una precisazione, è incredibile, è incredibile come il Movimento 5 Stelle oggi sia il baluardo, ascoltate bene, giuro che lo sto dicendo io, come il Movimento 5 Stelle oggi sia il baluardo di due o tre cose intelligenti che si vogliono evitare all'interno di questa manovra finanziaria, che vogliono fare i comunisti, i comunisti sarebbero gli uomini di Gualtieri, Visco, Gualtieri, cioè quella linea là tra burocrati, politici, NENS, centristudi della minchia, eccetera, sono quelli che si sono inventati, ad esempio, che le partite IVA forfettarie, quelle fine del 65 mila euro, l'unica cosa buona e giusta che ha fatto il passato governo, bene, passassero dalla contabilità forfettaria, cioè niente contabilità, a quella analitica, che è una stupidaggine pazzesca, che li riempirebbe pieno e mille adempimenti inutili. Beh, chi si oppone a questa roba qua? Si oppone al Movimento 5 Stelle, chi si oppone ad abbassare il contante da 3.000 a 2.000 euro? Guardate per favore sul mio sito la storia del contante in Italia, fatta da Zanetti, che è straordinaria, sul mio sito lo trovate. Chi si oppone? Si oppone al Movimento 5 Stelle. Oh, fermi, poi il Movimento 5 Stelle di cagate le famigliaia. Ma riguardo, e anche oggi ne avremo molte testimonianze, ma riguardo a questa vicenda è del tutto evidente, come dicono i giornali, che c'è una contrapposizione, quasi un'alleanza, tra Renzi di Maio contro Conte e quella filiera là di comunisti del PD. E poi il Fatto Quotidiano in realtà riporta i grillini sempre nella loro stalla, cioè la stalla giudiziaria, fatto. Ecco chi ruba 170 miliardi all'anno. Ragazzi, non state facendo un titolo di internet, ecco chi ruba. Ecco chi ruba, se noi fossimo così sicuri di avere le persone in nome e cognomi, probabilmente ne andremo a prendere questi soldi. Non si è sicuri che ci siano determinate categorie che rubano, come sperano Travaglio e i suoi amici. Oggi in realtà Travaglio gli erode, perché c'è su tutti i giornali, il fatto che Cantone, che lui non ama tanto, l'uomo dell'anticorruzione, dica la seguente cosa, che dice che non servono assolutamente a nulla le manette per evisare evasione e corruzione. Cioè, il punto fondamentale lo capisce anche un bambino piccolo, piccolo, non Travaglio ovviamente che è rimasto un bambino piccolo, ma ha questo codice di procedura penale tra i due neuroni, e quindi un bambino piccolo con questa malformazione. I bambini piccoli, normali, capiscono che il problema per gli evasori e fanno un mazzo così economicamente quando li pizzicano e non altro. Andiamo sulla manovra. Lo scontro ovviamente sulle partite IVA, per l'ho detto Di Maio, contro i Renziani, contro i comunisti. E poi c'è quest'altra cosa geniale, che invece vogliono secondo me i Grillozzi, e con loro tutto il governo, è la tassa sulla plastica. Un miliardo dovrebbe arrivare là, secondo il Sole 24 Ore. Cioè un euro, mi dice oggi un articolo di Sole 24 Ore, ogni 2,5 euro di costo della plastica che viene venduto a quegli imballaggi. Quindi un aumento del 30% della plastica, perché noi vogliamo fare la tassa sulla plastica, perché non vogliamo più la plastica, e come facciamo gli imballaggi con la canapa indiana? Facciamo gli imballaggi con le foglie di loto trovate in una foresta ecosolidale di genzano. Ma come cazzo li facciamo, secondo voi, gli imballaggi? Andiamo tutti quanti a prendere gli imballaggi la sigaretta sfusa? Ma guarda, è una roba che mi fa venire il sangue al cervello. Il sangue al cervello, che peraltro anche al Sole 24 Ore, è una notazione, diciamo, editoriale che faccio, gli viene una volta ogni sei pagine, perché il Sole 24 Ore, che era il giornale che avrebbe dovuto difendere gli imprenditori sull'ILVA, avrebbe dovuto difendere gli imprenditori, e non l'ha fatto, avrebbe dovuto difendere le ragioni delle imprese sulle tasse ambientali, che sono una minchiata, le prime due pagine dedica alla Brexit. Importantissimo. Poi dopo, un'intervista a Marchettone e a Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, che dice faremo un'economia sostenibile e i rifiuti sono il nostro petrolio. Per carità, interessantissimo, è l'uomo importante. E poi dopo arriviamo a pagina 6-7 del Sole 24 Ore sulle novità della manovra, che riguardano quelli che pagano lo stipendio ai giornalisti del Sole 24 Ore. Forse no, anche Descalzi con l'ENI glielo paga, in effetti. Però, quello che voglio dire, semplicemente, cavolo, un tempo mi leggevo quel giornale per sapere come funzionava il fisco e la finanza. Oggi mi leggo le grandi pippe, bellissime, internazionali, però, insomma, anche un po' quando c'è la pranopra, fatemi capire che succede, penso, a un imprenditore. Vi ho già anticipato la questione della Brexit, ne parlano tutti i giornali. Molto divertente, secondo me, il titolo oggi del Daily Mail, il giornale popolare, diciamo, di destra, inglese, che dice Boris ha fatto il suo lavoro. I parlamentari devono ora fare loro, perché Boris ha fatto un accordo, che è un compromesso, come ci spiega il foglio, tra le ragioni della Brexit e quelli dell'Europa. Non sarà un hard Brexit, come lo avevano i duri e puri, ma alla fine, come capiamo da tutti i giornali, mancano 19 voti parlamentari, probabilmente da recuperare dai laboristi, per far sì che passi questa Brexit, in cui, come sostiene il foglio, la grande questione, cioè l'Irlanda del Nord, beh, insomma, l'Irlanda del Nord è un po' più vicina all'Irlanda e quindi all'Europa, di quanto lo sia il Regno Unito. Questo non piaccia agli hard Brexiter, per farla semplice, ma ovviamente è uno degli accordi unici che si potevano avere con l'Europa per poterla chiudere questa partita. Tra l'altro c'è scritto oggi sui giornali che gli inglesi dovranno pagare, per uscire dall'Europa, 40 miliardi di euro. Domani il Parlamento, in una stradunaria seduta di sabato, dovrà decidere se fare questa Brexit o no? Insomma, ce ne sarà ancora molto da dire. fantastica la questione di Arcelor Mittal, cioè drammatica. Guardate ragazzi, adesso ve la dico molto semplice. La questione della cerieria di Taranto è che la cerieria è morta. È morta prima per colpa dei magistrati, poi è morta per l'incapacità della politica di sottrarsi al gioco dei magistrati, e ora è morta per le minchiate ambientali che stanno ponendo ai nuovi acquirenti, che, come dice giustamente oggi qualcuno, anziché che lo dice a 20 vogli, lo leggo oggi sul Sole 24 Ore, non vede l'ora di trovare una scusa per andarsene via dalla trappola dell'Ilva di Taranto. E la scusa è che i grillini sono riusciti a togliere lo scudo penale che i dirigenti dell'Ilva pretendevano per continuare a fare il loro mestiere in un'azienda in cui, quando muovi un dito, vai in galera. Va bene? Gliel'hanno tolto, giusto o sbagliato che sia, e adesso Arsenal-Mittal non vede l'ora di chiudere quella fabbrica che vale 10.400 persone a Taranto, 5.000 in Liguria, è un indotto della Madonna, a voglia Barbara Lezzi, ex ministro del Sud, che non va più alle manifestazioni del Movimento 5 Stelle perché ci è rimasta male, che l'hanno fatta fuori, a voglia Barbara Lezzi a dire che quella zona può vivere di cozze, non ce la farà mai. Nel frattempo, ovviamente, le buone notizie di questo governo arrivano, accordo col presidente della Campania, De Luca, perché si assumino 500 navigator in Campania. Ecco, questa è la prospettiva dell'Italia, un'Italia in cui ci sono 500 navigator che sono degli bravi ragazzi, forse, che vogliono cercare, che non hanno mai lavorato in vita loro, che devono cercare lavoro per gente che forse qualche lavoretto l'ha fatto, quindi ci sono i 500 navigator in Campania e ci sono i 500 licenziati della Whirlpool. Secondo voi, il lavoro si fa con i navigator o si fa con la Whirlpool? Secondo voi, il lavoro lo trovano 500 disoccupati che hanno trovato il lavoro nell'agenzia dell'impiego o permettendo alle aziende di lavorare con semplicità, meno burocrazia, meno rischio di manette e compagnia cantante? No, ve lo chiedo, perché sennò possiamo anche riempire l'Italia di navigator, così tutti noi abbiamo un lavoro in Italia, nel senso che abbiamo il lavoro di navigator. Questa è l'idea dell'Italia folle che aveva la politica economica dei grillini. Nel frattempo, forse l'unico giornale, chi è che lo dice, è la verità, si ricorda di una questione riguardo alle manette agli evasori, la sinistra, i grillini, il moralismo. Fico querela le Iene, perché querela le Iene? Perché le Iene pizzicano la fidanzata di Fico che c'aveva una cameriera in nero, cameriera in nero, va bene? bisogna pagare i contributi ogni tre mesi all'IMS, alla cameriera, quello devi fare, perché la cameriera dovrebbe pagarli lei da sola? Bisogna fare un contratino, ci si mette un attimo, onorevole Fico, e poi dopo ogni tre mesi all'IMS, puoi andare, fai che cosa fai su Google, digiti, collaboratori domestici, paga online, 300 euro a trimestre, ce la puoi fare, no? A prestare la tua fidanzata 300 euro a trimestre se fai il presidente della Camera, non l'ha fatto, e lui, anzi, si è arrabbiato con le iene, ma come? Io ho la cameriera in nero, mi state diffamando? Il giudice però ha dato ragione alle iene, le iene non diffamavano e la compagna di Fico aveva la cameriera in nero e questi sono quelli che ci rompono i coglioni sulle menette degli evasori, gli evasori sono loro che non pagano la cameriera, che non pagano, non che non pagano la cameriera, che neanche i contributi pagano la cameriera, per cui ovviamente quella cameriera non pagherà mancano le tasse che dovrebbe pagarle lei, il governo fatto dal partito il cui presidente della Camera c'ha la fidanzata con la cameriera in nero, ci rompe le palle a noi partite IVA, ci rompe le palle a noi partite IVA, perché dobbiamo fare la contabilità precisa punto per punto, pagasse la cameriera e facciamo pari e patta, non ci rompessero le balle a noi. Tetto sulle tasse quella proposta di Forza Italia che dice facciamo un testo costituzionale delle tasse, è una vecchia idea della public choice americana, dei costituzionalisti, fiscalisti americani, numero uno, proposta fantastica, ma poi Forza Italia diciamo che ha qualche primo piccolo problemino, la Carfagna il giorno prima della manifestazione del centrodestra qua a Roma dove sono tutti finalmente uniti, dove tutti hanno la scusa di questa manovra finanziaria di merda per poter fare una manifestazione unitaria, si alza la Carfagna, nota politologa e come possiamo dire allieva di Pera e di Colletti e di Martino e dice io non andrò mai in piazza con Casa Pound e cavolo è la stessa Carfagna che non mi sembra di aver mai sentito dire quando la sua collega di partito Prestigiacomo è andata non in piazza in barca in tre in una barca di ONG insieme a Rifondazione Comunista è la stessa Carfagna che si è indigna di fare alleanze in campagna con dei personaggi diciamo che qualcuno ha anche chiacchierato io non li chiacchiero per niente perché penso che siano personaggi che si sono presi i loro voti e legittimamente si sono presi i loro voti ma poi ma cosa vuol dire andare in piazza con Casa Pound qua non ci possiamo andare in piazza non possiamo frequentare nessuno beh comunque questa è Forza Italia la Forza Italia in cui la Carfagna si alza quando Cavaliere dice presidente di Forza Italia dice non vedo l'ora di andare in piazza la Carfagna dice io non vado in piazza perché c'è Casa Pound ma forse ho capito male forse ho capito male fantastico oggi chi è il Libero la verità Libero prende in giro un po' ieri Rai 1 perché Conte costruiscono un Tg1 speciale perché Conte possa parlare il Tg1 speciale ha un risultato che per Rai 1 è un disastro 7% questo è il commento che fanno sul Libero di oggi direi che per il momento è tutto io vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani nicolaporro.it porca miseria c'avevo il libro la copertina del libro non ve l'ho portata la marchetta oggi sfuma mi è arrivato fisicamente il libro le tasse invisibili come le mano o le mani ciao ciao